E' KAIDO! KAIDO vieni qui KAIDO! Ammazza il modello però cos'è? Oddio cos'ho fatto? Ah ho ruggito anche vai! KAIDO! Sono andato ad un furry tipo aus KAIDO! Ragazzuoli è il momento La mette la mette Di vedere tutte le brutte copie di questo gioco Perché si ce ne sono parecchie Basta scrivere Bloxfruit e ne trovi non so quanti E c'è anche un altro gioco a parte Che non è effettivamente una parodia di Bloxfruit Ma è proprio un altro gioco Cosa sta succedendo intanto E' la fine del mondo Sto lavorando per fare delle cose Come potete vedere la mia maestria sul sanguinarte è quasi maxata In più qualcuno di voi mi ha consigliato di utilizzare la lama gravitazionale La gravity cane Che si sono riuscito a trovare alla fine Totalmente a caso ma sono riuscito a trovarla Ma ha consigliato questa per farle combo con il quake Che può attirare e ok E buttare giù il che non sarebbe male Però devo vedere un pochettino come potrebbe funzionare A few moments later Ho ancora il mantello ma vabbè lasciamo stare Il primo ragazzi è AkiQuest Che è già fatto AkiQuest Allora che sarebbe quello che vi ho detto Sto tizio qua non c'è pantalone Manco la maglietta Che salto ho fatto Ah posso scegliere proprio le navi qui Ok sono fatte malissimo Cioè proprio cubettose Oh mio dio Che cosa sto Che fai che ho fatto facciare Che fai che ho fatto facciare Insomma è lui Guardate lì la faccia Cos'è cosa hai in faccia Ah è proprio Vabbè Marshall di Titch vai col panzone Ok E Kaido E vabbè hanno Kaido Allora abbiamo perso Il Buddha E la forma evoluta Del Rambi Sarebbe di Eneru Quella forma E le bestie del mare Ah ma posso saltare all'infinito Ma io posso saltare all'infinito Qua abbiamo Il Doro Monkey di lupi Tutte le parodie praticamente Oh mio dio Almeno gli effetti del fuoco qui ce li ha Almeno quelli Ah un altro ronno azzurro Ok Usop Ok Asop Brook Nico Robic Frank vabbè Frank è sempre figo e inutile Potete dire quello che vi pare Anche se hai fatto male Frank è sempre più figo Nami Ok Tra Fargarlow E Verona Ace che Spoiler Buggy e Bogart Che non so bene chi sia Quasi credo che sia Nel creatore I top donate Ah non sono i top donate Ragazzi ma Tu hai donato 115 Robux per que Vabbè per il meme Letteramente spendiamo soldi per il meme Posso prendere dei frutti Eh Posso prenderne uno O esplodo in caso Ah no Non posso proprio prenderlo Fantastico Posso andare a vedere Almeno con la nave Un modo per guidare la nave Scusate Ah ce l'abbiamo Ho anche l'indicatore di velocità Vabbè Ok Ho preso la Going Merry Dove andiamo Andiamo a Marineford Andiamo a Marineford Subito Schippiamo tutti gli altri archi Io non sto neanche continuando a premere Sta facendo tutto da sole Se viene una pausa Abbastanza da supereroe Tipo Va bene Cose volanti per la mappa Ferma Voglio andare a vedere Cos'è Cos'è qui sta roba volante Dei pezzi Ok Va bene Lasciamo stare Ok sono arrivato Sono arrivato Dov'è la battaglia? Ho arrivato un po' in ritardo Con gli archi Scusate Mi c'è voluto un po' Un attimo che ho Posso saltare all'infinito No Non abbast... Oh mio dio Non c'è niente Ah Ok E meno male che davvero posso saltare all'infinito Altrimenti E sarei schiattato malamente Mi sa La mappa è così fatta meglio Non vorrei dire niente Gli assomiglia abbastanza Ok C'è qualcosa che devo fare C'è una missione Ma ho un haki Qualsiasi cosa Scusate Vedo che ho questi rettangoli bianchi Qua ma non capisco Cosa mi servono Comunque no Non mi pare che ci sia niente No Ho detto vabbè Magari c'è un'entrata C'è un blocco C'è un cu... Ah un po' ogni agriff Raga qualcuno Questa cosa sono io che scrivo Scrivevo così A grandi linee Molto... Scappiva molto E non c'è neanche il segreto Qua No Ah lì che... Ma Mario Ah sì Oh mio dio Quante cose però Le isole ci sono Ah quella è la grande... È la linea Vedi cosa hanno fatto loro però Vedi vedi Vabbè cambiamo gioco Non c'è molto da fare qua Mi sa tanto Ok sono entrato in questa E non capisco Inventa... Ah ok Sono i... Ah e Blockscript Mi ha fatto male Ok questo l'avevo capito Talmente male Che non riesco più a muovermi Cos'è che non mi fa muovere Scusate Pure lo shop è morto qui Oh C'è qualcosa Soul guitar Ok Posso prenderla Da soul Inventario non ho niente Cosa devo fare? Ti ritrovi così Ah Aiuto Ok Grazie Posso... Posso prenderne uno Oh ne ho trovato uno per terra Ah ok ce le bevo Allora Magma vai Oh hanno fatto l'animazione stavolta Che bello Prendi questo Ok Ok Ah f... Tiro delle scorreggie di fuoco Uuuuuh 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 Ma qui ogni quanto si... Si ritrovano Fammi vedere O me ne aggiungi uno a caso Proprio Pain Ah Vedi vedi me ne aggiungi uno a caso Ok vediamo un po' il pain Sono curioso Ok ora ho il pain Poo Poo Anche no spara dritto per dritto Ok V Ok Eh si sono letteralmente quelli riprati malissimo Flame Vediamo un po' questo Vai Piu 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 Dove mia genki dama di fuoco La mia genki dama di fuoco Non era questa la mia genki dama di fuoco Ne sono abbastanza sicuro Riuscirò a fare 1 v 1 contro di te Eh ok ho vito Poi cosa cosa abbiamo il frutto giro anche Lo spin fruit Poi do quello del gravity Dove lo quake Io non me ne vado senza il mio quake Non avete capito niente senza il mio quake Non me ne vado da qua Datemi il mio quake 5 minutes later Non ho trovato il quake per c'è il leopardo Ok Oh mio dio si è fatto male Ok Eh Kaido Kaido vieni qui Kaido Ammazza il modello però cos'è Oddio cos'è cosa ho fatto Ah ho ruggito anche vai Kaido Sono andato ad un furro in t-pose Kaido Affronta Affrontami La vedo male per me Kaido Continuo a ruggire Oh mio dio cosa ho fatto No Sono morto Non so mica Ouch Ah Cos'era Ah quella era la barriera C'è anche la barriera allora C'è sto tizio che li distribuisce a caso Grazie mille Posso prendere il mio frutto preferito adesso È il momento per voi De Kitsune Shrine Cosa me ne frega De Kitsune Shrine Io tiro i terremoti adesso Bu Oh Ora ci siamo Ora mi sento a casa Sono un pochettino diversi effettivamente Beccati il mio terremoto veleno E se che abbia paura della tua puzza Le tue scorreggie non mi fanno danno Assaggia questo Sono saltato in area per qualche motivo Quake Vincerò io Oh non muore sto cosa però Two thousand years later Aia 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 tutta sta puzza È morto alla fine Cos'è cos'è questo Che ha le mosse strane Kaido Oh mio dio che male Aia aia che male però Kaido Ti sciotterò Non hai scampo da me Non gli sto cavando assolutamente niente Ah me lilitbox Devo colpire il personaggio Ora che l'ho capito Non hai scampo Terremoti L'ho così sciolto Nooo Cosa mi ha sciolto Nooo Cosa della musica Nooo Il frutto della musica mi ha battuto All'ultimo si è introverso Nooo Ho perso il mio quake E basta Non c'è più gioco Non c'è più gioco Senza il mio quake Purtroppo è così Ok ho tratto un altro gioco Ho fatto malissimo Oh mio dio Qua i frutti sono proprio Uno strano frutto Vai mangiamolo Non so cos'è Sono morto Ah no Il frutto bomba Ho solamente due mosse Ho un tipino Però uno scatto Almeno Ti lancio le caccole E scorreggio Bellissimo Allora qui si vede il cooldown Almeno quello No non voglio mangiare questo Mi serve un frutto Un frutto bello Boh vediamo questo Dai proviamoli Se non li proviamo Fumo Ok Smoke punch No solamente la mosse Col fumo Ma che tristezza Ma quale tristezza Un pugno di fumo Letteralmente Basta Nooo Mangiamo questo Un revive Posso diventare Almeno un fantasma Con revive Almeno quello Revive no L'urlo delle anime Ascureggio delle anime Oh Magma Vediamo un po' il magma Vai Ok Qui almeno un po' di mosse Ci sono Vai Pugno di magma Ok Magma Terreno di magma Ok Molto semplice Magma swamp Ah no swap Ah Diventi di magma Uuu Io sono Oh mio dio Come fa ad essere Che qua È un gioco sperduto Ti dovrò distruggere Ah Pugno di magma Terreno di magma Ok No Non mi fa impazzire Buddha Ok Suppongo che mi renderà Solamente Grosso Non penso che abbia Altre mosse Sarò sincero Ah no invece Altre mosse Trasformazione Ok Ok Ma mi sembra Quello fatto meglio È quello fatto meglio E poi ti buggy E poi mi son buggato What E poi ti buggy Va bene È andata anche questa Questa è chiamata La miglior copy Di Bloxfruit Non ci sto capendo niente Vai Marine Come sempre Eh Ah già vado a fuoco di base Qui fantastico Devo prenderle quest Ma ti dico Come copia Per essere fatta Comunque è una copia Male Ok E mi dà le queste È letteralmente Come Bloxfruit È letteralmente Come Bloxfruit Oh ma le animazioni Però sono smooth Oh Oh guardate queste animazioni Oh ma voi scherzate Ma è meglio Di quello normale Le Oh Raga Io le perdo Non collaborare Con questi Per le animazioni Guardate qualche animazioni Oh bandito Giù le mani da me Livello 3 Ho shotto anche te Shotterò te vai Sono più forte io L'ho sciolto Dai vieni qua Fatti sciogliere I combattimenti Del livello 3 Sono fantastici Pam 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 Magari Il modello Un pochettino meglio Perché fa poco pena Però Però ci siamo Ok Io ho altre cose Statistiche Ma io voglio capire Questa cosa Delle statistiche Dove sono tutte le altre Cioè ne ho 21 Fatemele mettere Shop Ah oh mio dio Siamo seri Ah qui si compano Le catane così La camea me ha Fermi tutti Solmente 10 Solmente 10 Che a me A Non funziona la camea Mi hanno scammato Hold down F Quanto costa questo? Mi stanno scammando Non funziona sta roba Forse mi dovrei settare Vediamo Ah ok Se mi dovrei settare Shadow clone jutsu Che a me 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 A Devastato E deleitato Salutatemi i vostri Sogni e speranze Ma vanno ad essere vivi No Ciao clone jutsu No Il mio Bruno è ancora lì Ancora lì che mena No C'è l'Ufigure 5 C'è bisogno Contro l'Ufigure 5 C'è bisogno di Goku Vai Goku Goku solo Goku solo Forse Più lo carico Più verrà potente Che ne so Dove è finito? Yeah Lo prendi Preso Guarda come salta quello C'è l'Ufigure 5 No C'è l'Ufigure 5 C'è l'Ufigure 5 È un 1v1 pazzesco Shadow clone L'Ufigure 5 Preso C'è l'Ufigure 5 C'è l'Ufigure 5 Ciao È la fine Basta Il migliore gioco di sempre La Camea Posso avere anche le altre mosse Vabbè l'Admin Il Rasengan posso avere Giusto per il meme Giusto per il meme Lo facciamo Ah Rasengan Ho visto che lo posso lanciare? Ok Andiamo verso la prima isola Fermi tutti Voglio vedere È meglio rispetto Alcuni punti di... Come non detto Camea Sono buggato malamente A qualcuno mi aiuti Ok è la fine Ok ultima Come si chiama La possi... C'è hanno reworkato il dramico Ho un frutto Giro Va bene Si inizia con quelli di base Rotazione Ok Un po' troppa rotazione Ok Rotazione Mi hanno deleitato in modo... Ok Correndo Rotazione Ha trovato il calice lui però Lasciamolo stare allora C'è un frutto in giro? Che non sia il giro? Beccati questo! Io giro! Tornado di fuoco No ho sbagliato Cavoli ma è da ravvicinato praticamente sta roba Oh mio dio Quello ha trovato il drago però Ma non è giusto Dov'è che li trovate voi tutti sti frutti? Isola delle bestie Vai E' la miseria Abbiamo esagerato col nome qua Oh Abbiamo esagerato Oh mio dio Questo è il T-Rex Il T-Rex Bello il T-Rex No No è bellissimo È bellissimo Tornado Aia Si addio per me Au No raga penso di finirlo qua C'è troppa roba Troppa roba strana Si un tizio volare ho giusto visto la sombra Poi non faccio danno io Oh no il mammuto Ah Ucciderò il mammuto È il momento di estinguersi Di nuovo Non faccio danno con questi Chichi chichi mi continua a scorreggiare in pace Au Non glielo faccio Eh no Ma cos'è il room Credo Non lo so Vabbè Vabbè La finisco qua Sta roba è proprio strana C'è un fruttino qua Ah è il rocket Ma perché Sono quelli che fanno pena Vuoi un razzo Oh la miseria Ma son morto io Incidente del razzo Ah è proprio incidente Boom Vabbè bello Ok D'accordo Basta così va